Berlusconi in un confronto pubblico ha detto che se la Lega prende un voto in più il Premier lo fa Salvini, si sente più tranquillo adesso? Non ho bisogno del permesso di Berlusconi per chiedere il voto ai cittadini italiani per cambiare questo paese. La prossima settimana ha detto che vi incontrerete, cosa vi direte? Non so, io ho letto che ha già fatto tutto, ha già il programma, ha già la squadra di governo, addirittura scopro che ci sono già ministri, viceministri, sottoministri. Io da lunedì a giovedì sono a Strasburgo e quindi se avremo tempo e modo ci incontreremo, altrimenti lo faremo più avanti. Lui da squadra bene l'aveva fatta qualcuna, ma se parlava del calcio, di cinesi invece... Da milanista non parlo, sono profondamente depresso.